Abusivi contro taxi e NCC E' vero che esistono disonesti tassisti e disonesti NCC Ma c'è una specie che unisce tutte e due le categorie L'abusivo L'abusivo di fatto non colpisce specificatamente la categoria NCC Questo perché la preda dell'abusivo è il cliente delle grandi stazioni o degli aeroporti Ma soprattutto il tassista Perché ruba il cliente, la maggior parte delle volte straniero, che sta cercando un taxi ufficiale Ma chi è un abusivo? E' un abusivo colui che non ha i requisiti, la licenza e nemmeno la macchina ufficiale che sia o taxi o NCC Come spiegamo in altri video, il taxi si trova nelle apposite piazzole di sosta oppure davanti agli aeroporti L'NCC va prenotato per tempo Ci sono alcune eccezioni però negli aeroporti Come ad esempio a Linato o a Malpensa Dove la SEA Aeroporti, Società Esercizi Aeroportuali Ha inserito dei banchetti NCC Regolari a tutti gli effetti Ai quali permette di avere la rimessa, obbligatoria per il servizio NCC Proprio dentro l'aeroporto Perciò la persona che ha bisogno del servizio Anche senza prenotazione Può recarsi in uno di questi banchetti e richiedere immediatamente il servizio NCC Diciamo che il problema vero si riferisce all'adescamento Quindi quelli che dicono taxi, taxi sottovoce Ma è diverso dall'abusivismo Anche qui, come per il video sulle truffe del tassametro Se non l'hai visto, te lo metto qui Mi sto per mettere un bel guaio Perché ciò che disturba nello specifico sia taxi che NCC È il vero abusivo Quello che senza avere un banchetto, una macchina ufficiale E manca una licenza Preleva indisturbato i clienti in aeroporto, nelle stazioni Ormai ce ne sono di ogni nazionalità Indiani, pakistani, cinesi Ognuno fa quello che vuole indisturbato Non so se sono più convenienti o più cari rispetto ai servizi ufficiali Non mi interessa Fatto sta che non sono regolari La lotta all'abusivismo dovrebbe essere un problema di tutti Perché se si fa la multa al cartolaio del piccolo paesino Per un mancato scontrino Cosa dovrebbero fare? A chi non paga per niente le tasse? A chi non paga niente di niente?